Siete alla ricerca di uno smartphone che sia sicuro, ricco di funzioni e adatto ai più anziani? Io ho la soluzione perfetta per voi e ve ne parlo tra poco qui su TechPrincess. Quello che vedete qui accanto a me sembra un comunissimo smartphone ma in realtà non lo è. Si tratta di Doro 8040, un dispositivo sviluppato dall'azienda svedese Doro e pensato per gli utenti senior. Ma che cos'ha di così speciale? Ha pochissimi tasti, è facile da configurare, ha un'interfaccia semplicissima e l'utilizzo è guidato sin dalla prima accensione. Insomma, permette di fare tutto ciò che fareste con uno smartphone normale ma si adatta perfettamente a tutti coloro che approcciano questo mondo per la prima volta. Una volta acceso, Doro 8040 proporrà un semplice questionario che vi guiderà passo passo permettendovi di familiarizzare con il touch, di regolare la grandezza dei caratteri e il volume, oltre ad aiutarvi ad identificare le icone utili. La schermata principale è composta da tre icone ben visibili, chiama, visualizza e invia. Ad ognuna di queste opzioni corrisponde un menu molto semplice e intuitivo che vi permetterà di trovare immediatamente quello che vi interessa fare. Ad esempio premendo il tasto invia, Doro 8040 vi chiederà innanzitutto che cosa desiderate inviare attraverso una serie di suggerimenti. Una volta selezionato potrete scegliere il destinatario. Vi basteranno quindi tre semplici passaggi per portare a termine questa operazione. Questo smartphone però non è solo semplice da utilizzare, Doro 8040 è infatti progettato per essere resistente e facile da impugnare. Sul retro troviamo anche un pulsante di emergenza che potete collegare a cinque numeri ed utilizzare in caso di necessità. Inoltre premendo questo tasto tre volte Doro 8040 invierà un sms a questi contatti con la vostra richiesta d'aiuto e la vostra posizione. La parte posteriore dello smartphone però non ospita solo il pulsante d'emergenza. Sul retro infatti trovate la fotocamera da 8 megapixel e il flash led che potete utilizzare come torcia. A bordo troviamo anche la radio FM per ascoltare le vostre trasmissioni radiofoniche preferite. Infine è possibile gestire in qualsiasi momento ogni aspetto di Doro 8040 grazie a MyDoro Manager. Si tratta di un pratico servizio web che può essere utilizzato direttamente da voi, da un nipote o da qualsiasi persona di fiducia. A che cosa serve? È possibile ad esempio utilizzarlo per cambiare lo sfondo del display o salvare le vostre fotografie, ma non solo. Con MyDoro Manager potete visualizzare la posizione dello smartphone così ritrovarlo in caso di smarrimento sarà facilissimo. Direi che anche per oggi è tutto, voi ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!